Ci possono essere su queste incertezze di gioco della Juve anche delle incertezze di scelte iniziali da parte di Allegri complice ovviamente l'assenza di Marchisio, complice ovviamente il fatto che il 31 agosto doveva nascere il re e non è nato forse è anche meglio perché Witzel non è che sarebbe stato l'uomo della Provedere e dopo che diciamo che il re è nudo, qualcuno l'ha ammesso adesso, forse è seminudo però certi esperimenti, certe variazioni di Allegri possono aver creato, trasformato la Juve in un cantiere continuo in continua evoluzione, talvolta involuzione che ovviamente non ha determinato un gioco preciso voglio dire le stesse oscillazioni sulla posizione di Pjanic in campo, sul ruolo di Pjanic ovviamente hanno creato una confusione perché se in primo luogo io dico voglio Pjanic regista e poi Pjanic lo avanzo chiaramente io mi auguro che Marchisio possa essere davvero per così dire l'uomo della Provedere